E bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarvi come collegare la Playstation 4 o l'Xbox o qualsiasi console al PC così da poter fare live e registrare nel modo corretto. Per Playstation 4 inoltre ci sarà un altro metodo a costo zero, quindi completamente gratuito e quindi se volete saperlo guardate tutto il video perché lo dirò alla fine. Il primo metodo è quello di utilizzare un game capture ovvero una specie di scatolina che potete trovare su Amazon ci sono tante marche e tanti modelli che utilizzerete da tramite tra Playstation e computer. Questo è il metodo più costoso ma anche il metodo con la maggiore qualità in assoluto. Infatti potete registrare e streammare fino a 60 fps in 4K. Ovviamente dipende dal game capture che avete preso. Prima di cominciare comunque volevo ricordarvi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale e di condividere il video con i vostri amici. Mi raccomando! In questo caso io ho preso legato uno dei game capture più custodi sul mercato stiamo parlando di circa 150 euro ovviamente non ho preso quello in 60 fps ma quello normale. Potete vederlo qui collegato praticamente ragazzi è veramente una cazzata da collegare avrete praticamente qui un ingresso HDMI in vediamo se si vede non metto a fuoco ok dove metterete praticamente la Playstation quindi Playstation HDMI in mentre invece qua nell'uscita HDMI out metterete un cavo HDMI che andrà da game capture alla televisione e infine questo che metto qua andrà collegato al computer basta ragazzi tutto qua è una cazzata allora ragazzi mi raccomando prima di cominciare dovete andare su impostazioni sistema e su abilita HDCP e dovete togliere la spunta se no la game capture non riuscirà a leggere i segnali video in questo caso come potete vedere ragazzi è veramente una cavolata ho la Playstation sul PC in questo caso sto usando OBS infatti dove cazzo ho messo il joystick? eccolo qui adesso guardate bene ovviamente in tutti i game capture c'è un secondo di ritardo come potete vedere si vede benissimo poi vabbè adesso con la fotocamera riprendere un televisore o un monitor si vedrà un po' strano però ragazzi posso assicurarvi che la qualità è veramente alta bene ragazzi adesso invece vi spiegherò come collegare solo per Playstation la Playstation al vostro PC in modo completamente gratuito andiamo a vedere allora ragazzi semplicemente andate su Google e scrivete riproduzione remota PS4 il primo link che è il sito della Playstation scaricate il programma che sia per Windows o per Mac è indifferente c'è per tutte e due dopodiché praticamente ragazzi adesso non so farvelo vedere perché è una cazzata andate su impostazioni Playstation riproduzione remota e schiacciate abilita l'accesso praticamente poi aprite l'applicazione ragazzi come in questo caso io l'ho già aperto infatti se vedete la sto vedendo sul computer adesso vi faccio vedere come fare esco da qui allora aprite l'applicazione riproduzione remota infatti si è disconnesso perché ho chiuso l'applicazione ah mi raccomando cosa importantissima dovete sempre collegare il joystick al computer con un cavo USB lo riconosci subito quando siete qui infatti semplicemente avvia adesso sta cercando la Playstation vedete ora c'è scritto il mio nome vabbè connesso mediante riproduzione remota e niente ragazzi e poi potete usare questa finestra in UBS in qualsiasi programma per streamare o registrare veramente facilissimo ovviamente con questo metodo la qualità sarà più bassa rispetto a che avere un game capture e ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata un saluto da Bibo